Valmet è un'azienda finlandese che si occupa di produzione di tutti i tipi di veicoli, anche di veicoli elettrici. In produzione in questo momento c'è la Zinc, in arrivo la Fiskel Karma e anche in produzione questa Golfcar sulla quale è seduto il signor Aimo Olman che è vicepresidente di Product Development dell'azienda finlandese. Vorrei chiedergli prima quando inizia la produzione della Fiskel Karma e quali sono i piani di produzione. Ok, noi siamo uno dei pionieri in questo settore dei veicoli elettrici e ibridi. Abbiamo al momento due veicoli in produzione e la Fiskel Karma è in arrivo in primavera. I veicoli che abbiamo in produzione sono la Zinc e anche la Golf Cargaria di un'azienda danese. La produzione della Fiskel Karma verrà avviata in primavera. Ci sono delle problematiche particolari nella produzione di veicoli elettrici rispetto a quelli a motori a scoppio? I veicoli elettrici sono veicoli speciali, quindi diversi. Ci sono diverse strutture di telaio e carrozzeria come quella che vediamo nella Golf Car e che vedremo anche nella Fiskel Karma. Quindi tutto il processo di produzione è diverso riguardo le auto convenzionali. E anche ovviamente le batterie, la protezione, la sicurezza e tutto quello che riguarda la trazione è diverso. I test necessari sono anche diversi e in certi casi più complicati degli altri veicoli convenzionali. Mi può parlare di questa Golf Car? Prima abbiamo parlato di Fiskel Karma, ma anche questo veicolo è interessante. Questa Golf Car è costruita per l'azienda danese Garia ed abbiamo fatto l'engineering insieme a loro mentre la produzione si fa nel nostro stabilimento. È una Golf Car destinata al mercato d'elite. Riguardo alla situazione della Zinc, è già in produzione da qualche anno e le vendite vanno bene? Sì, abbiamo iniziato la produzione qualche anno fa e continua senza problemi per questi veicoli. Che altri veicoli avete in produzione? So che Valmet lavora anche per Porsche. Sì, Porsche ci ha affidato la produzione del modello Boxster, quindi siamo anche fornitori di Porsche. Sì, Porsche per Porsche.